La seconda metà di settembre abbassa le serrande sulla maggior parte dei locali del lungomare pesarese che si fermano per la consueta chiusura invernale. Rischia però di essere una chiusura molto diversa per il Piada Marina, noto e frequentatissimo chiosco del porto cittadino, le cui serrande si abbasseranno il 2 ottobre col pericolo concreto di non essere più risollevate. Fine della concessione per mancanza di licenze edilizie e spazio demaniale occupato abusivamente. Sarebbero queste le motivazioni a corredo della revoca del permesso che Demanio e autorità portuale hanno fatto presente ai titolari del chiosco. Una notizia che ha fatto sobbalzare dalla sedia mezza città, una città che da 16 anni frequenta Piada Marina e al sedicesimo anno vede da un giorno all'altro un'attività fiorente tramutarsi in abuso edilizio. Un'attività che per 16 anni è stata autorizzata di poter svolgere la propria attività e dalla sera alla mattina in giro di pochi giorni dovrà chiudere i battenti. La cosa che a noi dà fastidio più che altro è la vehemenza con cui viene imposto un qualcosa dalla Capitaneria di Porto di Pesaro o dall'autorità portuale di Ancona, questo a noi poco interessa. L'importante è che questa attività debba subire una chiusura secondo noi ingiustificata. Tenendo in considerazione che non esiste un piano regolatore del Porto di Pesaro, quindi per 16 anni questa attività che noi frequentiamo tutta l'estate, vengono a mangiare un luogo sacro per i pesaresi, siamo al porto, debba chiudere perché qualcuno dalla sera alla mattina si sveglia e scopre che per 16 anni non ha fatto il suo lavoro e questo che a noi non capiamo, non capiamo come si possa dopo due anni di Covid buttare nel cesso, scusate il termine, un'attività con dieci dipendenti che hanno dovuto subire tutto quello che hanno subito perché qualcuno dalla sera alla mattina scopre che manca un qualcosa di burocratico amministrativo e ti impone di dare delle risposte che tu non puoi dare e quindi il grottesco è proprio questo. Non solo Davide Ipaso, sono tantissimi pesaresi che negli ultimi giorni hanno espresso sdegno per una discutibile estremizzazione della burocrazia. È già virale l'hashtag io sto con Piada Marina e mercoledì il disappunto per la chiusura passerà dalla tastiera dei social a carta e penna di una raccolta firme. Noi usiamo il metodo che abbiamo usato anche durante il Covid che è il metodo legale, non dobbiamo andare sotto la capitaneria di Porto fare i deficienti e passare dalla parte del torto. Dalla sera alla mattina, dalle dieci e mezza della mattina fino alla chiusura dell'attività, noi raccoglieremo le firme di tutti coloro che vogliono esprimere la solidarietà nei confronti di questo luogo che per noi è sacro. In più c'è un happening che non è una manifestazione, invitiamo tutti quelli che hanno voglia di venire a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di Michele e dei suoi collaboratori, dalle 18 in avanti la piadina, la birra a prezzi popolari, rimaniamo qui e facciamo vedere quanto questo luogo è amato dai pesaresi e quanto questi ragazzi con la professionalità, la serietà che hanno dimostrato in questi tanti anni hanno bisogno di sentire la vicinanza del cittadino pesaresa. Un disappunto non fino a se stesso ma condito anche da proposte spendibili. Noi chiediamo una sospensiva, l'opportunità da parte dell'autorità portuale di Ancona di redigere il piano del porto e poi dare una sanatoria a tutti quelli che sono all'interno del porto e poi chi si vuole sanare bene, chi non si vuole sanare andrà a casa ma almeno diamo l'opportunità a tutti di poter lavorare.